Musica Amici sportivi appassionati di Palamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Palamano, il format dedicato alle attività del Centro Tecnico Federale, omonimo della nostra trasmissione, la Casa della Palamano a Chieti, e dedicato naturalmente anche all'attività della squadra federale Campus Italia, Chieti sempre più appunto sede degli impegni delle nazionali azzure, in modo particolare ovviamente le attenzioni sono tutte rivolte alla grande sfida del prossimo sabato 8 aprile, nella giornata di domani infatti alle ore 18.30 la nazionale femminile sfiderà la forte Slovenia per l'andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali del 2023, secondo e ultimo step per provare l'assalto alla manifestazione iridata che si svolgerà poi nel corso della fine dell'anno, si giocherà in modo particolare a dicembre nei tre paesi della Scandinavia, tra Norvegia, Svezia e Danimarca, l'Italia ci proverà anche se la Slovenia naturalmente è una super avversaria, ottava agli ultimi campionati europei, sta lavorando duramente lo staff azzurro assieme a tutte le ragazze qui in Abruzzo da lunedì scorso con il tecnico Giuseppe Tedesco al suo fianco, c'è la nostra ospite di oggi che conosce molto bene l'Azzurro e l'Abruzzo, perché ha vinto con la maglia del Teramo, saluto con grande piacere la vice allenatrice della nazionale italiana Elena Barani. Ciao, grazie Matteo e buonasera a tutti. Elena, dicevamo di questa sfida difficile, complessa, perché affrontiamo un'avversaria importante, che è molto cresciuta nella storia recente, diciamo negli ultimi anni in ambito continentale, in ambito europeo, una squadra che viene non solo per andare a prendersi questa qualificazione, ma anche per cercare poi l'assalto alla qualificazione ai giochi olimpici, al tempo stesso noi veniamo però da un buon trend, perché abbiamo in ambito ufficiale vinto le ultime due partite contro la Bulgaria. Sì, sicuramente i percorsi delle rispettive nazionali sono diversi, loro sull'onda lunga dell'europeo che hanno organizzato anche in casa, sicuramente vengono da un ottimo risultato a livello continentale, possono annoverare tra le proprie file delle giocatrici di grande esperienza, di grande caratura europea e mondiale. Noi stiamo cercando di affacciarci nella pallamano che conta e quindi affrontando questo tipo di nazionali sicuramente ci mettiamo alla prova, ma vogliamo anche cercare di dire la nostra, perché in Europa è difficile giocare a pallamano, perché tutte le nazionali sono veramente forti, però ecco, siamo anche noi entusiaste di quello che stiamo facendo. Le due sfide con la Bulgaria sono state un buon banco di prova e le abbiamo, secondo me, superate in maniera brillante e adesso siamo pronte per il prossimo ostacolo. Alzare il livello è il mantra di questa nazionale, un livello che si alza necessariamente alzando anche il livello delle avversarie. In questo le due sfide contro la Slovenia rappresentano un gradino da salire necessariamente, ne parliamo nel servizio. Alzare il livello, se c'è un imperativo che l'Italia femminile ripete a se stessa da lungo tempo è proprio questo, alzare il livello, il proprio, prima di tutto e di conseguenza quello delle avversarie con cui misurarsi. Il percorso è lungo, passa per banchi di prova, il più possibile di stampo internazionale passa inevitabilmente per i risultati. Era novembre e con le vittorie contro la Bulgaria, tra Varna e Chieti le Azzure si guadagnavano l'accesso al secondo e ultimo turno di playoff per le qualificazioni ai mondiali 2023. Ora, dunque, quel livello si alza e nella casa della Palamano arriverà la Slovenia, ottava agli europei del dicembre scorso e per questo favorita per il passaggio del turno. L'Italia, che intanto si è radunata proprio al centro tecnico federale lo scorso 2 aprile, ricomincia dalle sue certezze. La nuova linfa delle giovanissime, i progressi di gioco evidenziati sia a novembre che nel torneo di battaglia in Portogallo il mese scorso e ancora la fame di volersi ritagliare uno spazio in campo internazionale. La lista delle convocate a disposizione di Giuseppe Tedesco tra New Entry e Conferme ha subito un paio di variazioni rispetto alle recenti uscite. La più rilevante è legata al nome di Anika Niederwieser. Se non altro per l'esperienza maturata in Bundesliga dal 2016 a oggi, il terzino sinistro originario di Bressanone fresca di qualificazione alla Final Four di European League con la maglia del Thüringer rappresenta un inserimento di primordine nella sempre più rodata in telaiatura azzurra. Per tutto il resto è l'Italia che conosciamo, giovane prima di tutto, visto che appena 6 atlete su 19 superano i 25 anni. Le abbiamo analizzate a fondo, dobbiamo rispettarle come se stessimo giocando contro Francia o Norvegia, ha detto Draganazic, tecnico della Slovenia che intanto si allena a Ljubljana e che stando alle ultime notizie provenienti dai media locali, lo fa senza le indisponibili Omo Reghi e Mavsar. In dubbio anche la mancina Anna Gross ha le prese con problemi alla schiena. Questo non cambia comunque di una virgola, la rilevanza dell'avversario è il grado di difficoltà elevatissimo del doppio confronto che attenderà l'Italia. Alzare il livello, si diceva, tra l'8 aprile a Chieti e il 12 aprile a Ljubljana l'opportunità sarà duplice e da non sprecare. Abbiamo fatto l'appunto nel servizio, ecco, riprendo le parole che abbiamo utilizzato spesso nel corso appunto del servizio che abbiamo appena visto, Elena, alzare il livello, ovvero volontà da parte di questa squadra, una squadra giovanissima peraltro, di misurarsi con avversarie forti, lo abbiamo già visto nel torneo che ha preceduto e che precede appunto queste due sfide contro la Slovenia, quindi sia Portogallo, soprattutto Spagna, che è una delle squadre al top della Palamano Mondiale, la Slovenia però non è da meno. No, noi piano piano, gradualmente, e sempre in maniera più brillante, spero, stiamo cercando di costruire la nostra credibilità. La Slovenia, ad esempio, l'ha già costruita, la Spagna ancora di più forse. Il fatto che ci siano delle ragazze giovani, naturalmente, è molto positivo e si stanno facendo le ossa proprio affrontando questo cammino graduale e penso che per loro sia una grande soddisfazione già affrontare una squadra come la Slovenia, però c'è anche la freschezza della gioventù, quindi nel senso che l'esperienza si fa piano piano, loro comunque portano anche una grande dose di talento, perché secondo me abbiamo delle giocatrici nella batteria dei terzini, ma un po' ovunque, a Alipivot, che possono veramente ricostruire un po' quello che sarà il futuro dell'Italia femminile e quindi devono solamente mettere tutto quello che hanno anche con orgoglio, perché magari le altre nazionali possono pensare che l'Italia non sia al loro livello e quindi perché no? Potremmo anche sorprenderle facendole ricredere sul nostro status. Vediamo in grafica l'elenco delle convocate che sta lavorando dallo scorso 2 aprile a Chieti, un elenco delle convocazioni che deve fare a meno della infortunata Ramona Manojlovic, una di quelle giovani talentuose di cui parlavamo poc'anzi, che a causa di un problema alla spalla ha dovuto lasciare il ritiro azzurro. Spenderei però due parole su Anika Niederwizer, una ragazza che dopo un lungo periodo, anche dopo due brutti infortuni alle ginocchia, dopo quasi cinque anni, torna a vestire la maglia della nazionale. Nei giorni scorsi avete anche giocato un amichevole contro Teramo, ha vestito già la maglia inamichevole e lo ha fatto, almeno per quello che abbiamo visto, con grande entusiasmo, grande voglia di mettersi a disposizione del gruppo. Sì, naturalmente Anika, al pari anche di tante altre giocatrici che giocano all'estero, comunque giocano anche nel campionato italiano, sono un patrimonio imprescindibile della nostra nazionale. Assolutamente è tornata in punta di piedi da grande professionista, è secondo me un esempio per le altre, però si sta allenando con grande volontà, con grande impegno e si mette a disposizione delle altre e poi uno sport di squadra, la palla a mano naturalmente, quindi ognuna porta il proprio contributo, ognuna è importante per la causa della propria nazionale, però ecco, siamo molto contenti del suo rientro, come siamo contenti di tutte coloro che ogni volta che c'è un raduno rispondono presente con grande entusiasmo. Vediamo anche in grafica l'elenco delle partite che si giocheranno e che caratterizzano questo fine settimana e poi l'inizio della prossima andata e ritorno per questi play-off di qualificazione con le sfide che daranno ovviamente ciascuna un verdetto e quindi una squadra qualificata ai campionati mondiali che poi come dicevamo si giocheranno a dicembre. Abbiamo parlato di giovani, volevo chiederti in questo senso un parere sulla, a tuo avviso, nuova consapevolezza dei giovani italiani di poter intraprendere un percorso nella palla a mano. Abbiamo visto diverse ragazze, prendo Giulia Fabbo per esempio, come nome simbolo, scegliere esperienze di altissimo livello all'estero, lei ha scelto, ha avuto la possibilità di arrivare nell'Accademia del Mez, è accaduto lo stesso per tanti ragazzi al maschile, sono arrivati anche dei successi, il championship che è stato vinto di seconda divisione qui a Chieti nel 2021, i campionati di seconda divisione vinti a Tbilisi al maschile e poi i campionati europei di prima divisione con la salvezza ottenuta, insomma, tu che giudichi da fuori che hai giocato tante partite con la maglia azzurra e che hai giocato una carriera di altissimo livello, come giudichi l'approccio di questi ragazzi, di queste nuove generazioni alla palla a mano? Io penso che innanzitutto siamo anche fortunati quelli del campus soprattutto perché hanno avuto e avranno la possibilità di vivere intensamente la palla a mano e se riusciranno, e penso che già lo stiamo facendo, a fare della propria vita una vita di palla a mano, sarà sicuramente un positivo sia per loro che per la nazionale perché poi è un po' un circolo virtuoso, quindi se a livello giovanile riusciamo comunque a dire la nostra e a competere con le altre nazionali che magari fino adesso hanno sempre avuto un ruolo, un ranking superiore al nostro, sicuramente si dovrebbero vedere ancora di più i frutti nel futuro, però tornando a queste giovani, si vede che i tempi sono un po' cambiati rispetto ai miei, nel senso che magari prima non c'erano queste possibilità, però ci sono ancora tanti giovani che proprio hanno voglia di fare sacrifici perché comunque lo sport ad alto livello è sacrificio, perché poi devi anche sacrificare non solo il tuo organismo ma anche tutto ciò che è la tua vita, la scuola, eccetera, e quindi il fatto che possano perseguire la loro passione, che la loro passione sia la palla a mano, è molto bello, sono molto contenta per loro ed è bello anche per tutto il movimento perché comunque, come ho detto prima, in Europa tante nazionali sanno giocare a palla a mano e quindi il livello di tutte le nazionali è piuttosto livellato verso l'alto, però ecco, grazie al loro contributo e grazie alla loro vita dedicata alla palla a mano penso che tutti poi potremo ottenere dei buoni risultati. Abbiamo parlato di Annika Niederviser invece come una delle veterane di questa squadra, una delle trascinatrici, lo è senza dubbio il capitano di questa nazionale, Ilara Dallacosta, l'abbiamo ascoltata proprio nelle scorse ore, mentre si avvicina alla sfida di andata del prossimo 8 aprile contro la Slovenia. Stiamo facendo un percorso di grande crescita, iniziato appunto con la vittoria contro la Bulgaria che ci ha permesso appunto di sfidare adesso la Slovenia in queste due partite. In Portogallo abbiamo giocato questo torneo dove appunto abbiamo avuto all'attivo solo una vittoria purtroppo, però abbiamo giocato alla pari contro Portogallo che è una buona nazionale e appunto stiamo lavorando per portare questo gruppo a crescere e a aumentare il livello appunto di questa nazionale. Ecco, questa è una frase che Beppe Tedesco, il vostro allenatore, ripete spesso la necessità di alzare il livello e questo passa necessariamente per il livello più alto anche delle avversarie. La Slovenia è un gradino in questa direzione? Sì, la Slovenia è un grandissimo avversario, ovviamente saranno due partite difficilissime, noi scenderemo in campo appunto per vincere perché così si fa sempre, però guardando i dati attuali ovviamente la Slovenia nel ranking mondiale è molto più avanzata rispetto a noi. Ovviamente per crescere ci servono partite di alto livello e queste due partite ci serviranno molto appunto anche per capire a che punto siamo arrivate. Riprendo sempre le parole del vostro allenatore, ha detto mi aspetto in Italia che sappia giocare con maggiore raziocinio e meno emozionalità ovvero stare in partita ma non solamente con il cuore, con le emozioni, con la determinazione anche con la calma, sei in linea con queste parole rispetto a quello che si è visto nelle partite precedenti. Sì, sicuramente dobbiamo appunto giocare con più calma e più tranquillità perché cercando di commettere meno errori possibili perché a livello internazionale con avversari di questo tipo un piccolo errore significa contropiede, gol subito e quindi appunto dobbiamo cercare di sprecare di meno e di stare tranquilli e non lasciarci andare l'emozione di giocare contro un avversario così forte. Intanto a microfoni spetti ti chiedevo un parere visto che Lara Dallacosta ha debuttato in casa da capitano della nazionale contro la Bulgaria nel novembre scorso quindi è giovanissima come capitano della nazionale. Ti chiedevo un parere e tu mi hai detto stesso numero di maglia intanto era una garanzia tu che sei stata capitano della nazionale per lunghissimo tempo, per lunghi anni. Però ecco un ruolo di responsabilità, un onore e un onere essere capitano della nazionale. Assolutamente sì ma penso che sia un tributo a lei come atleta e come carriera anche che sta svolgendo e devo stare attenta a quello che dico a microfoni spenti comunque assolutamente siamo contenti e sono contenta di come stia interpretando il ruolo perché non è facile assumere la posizione di leader però secondo me lo sta facendo in maniera egregia e anche lei dà l'esempio e poi ha pazienza in certe situazioni e cerca sempre di spronare in meglio le compagne e ricollegandomi poi a quello che stava dicendo lei assolutamente secondo me dobbiamo anche avere un pochettino più di fiducia nei nostri mezzi perché a forza di essere considerate diciamo cenerentole poi magari pensiamo di non essere all'altezza di certi palcoscenici o di certi avversari però secondo me lo siamo però ne dobbiamo prendere consapevolezza evitare la reverenza nei confronti di avversari più prestigiose di avversari almeno per quello che dice il ranking e più avanti come nel caso della Slovenia lo hai detto tu, lo ha detto Ilara Dallacosta lo ha detto anche Beppe Tedesco ospite nei giorni scorsi della trasmissione curata dalla federazione Enbolmania ascoltiamo Mi aspetto una Slovenia che è arrivata ottava alle europee come giustamente diceva nella sua presentazione Matteo che magari ha qualche assenza ma non è sicuramente la squadra che ha giocato in Slovacchia perché chiaramente Gros sarà nelle sedici giocatrici sicuramente Zulic che è la centrale titolare non ha giocato in Slovacchia e quindi una giocatrice straordinariamente forte e quindi una Slovenia che ha un preciso programma ma vuole arrivare alle Olimpiadi del 2024 e le Olimpiadi come tutti sappiamo purtroppo anche in Italia è il sogno di tutta una nazione quindi sicuramente non ci sottovaluta dal punto di vista dell'impegno perché sanno che devono passare attraverso questo passaggio ma mi aspetto una Slovenia che al di là dell'ottavo posto se andiamo nel concreto ha pareggiato con i campioni d'Europa ha pareggiato con la Norvegia, ha battuto la Danimarca e quindi è una squadra che probabilmente vale le prime 4-6 posizioni del ranking mondiale quindi mi aspetto una partita importante ma soprattutto condivido una cosa che noi da un po' di tempo diciamo che vogliamo alzare il nostro livello ed è stato espressamente detto e io dico che è perfettamente vero che non si può alzare il proprio livello se non si gioca con squadri di alto livello Mi attendo a questo punto una crescita complessiva della squadra che secondo me si identifica nel fatto di riuscire ad essere un po' più continue nel rendimento per esempio in Portogallo abbiamo fatto secondo me una buonissima partita col Portogallo e il giorno dopo non abbiamo fatto altrettanto con la Spagna ma perché è difficile per noi giocare a livello alto con continuità perché questo non è il livello del campionato italiano normalmente perché le ragazze non sono abituate ad avere stress agonistici di questo tipo e soprattutto una calma maggiore nella gestione perché non possiamo giocare solo con l'emozione dobbiamo cercare di giocare una palla a mano di alto livello ma cercando di non andare a cercare il massimo dell'emozionalità delle situazioni che ci tengono epidemicamente in partita invece che di essere razionalmente questo è un tentativo che non sarà facile ma penso che mano a mano che giocheremo con queste partite saremo sempre più capaci di farlo Elena ti ritrovi nelle considerazioni di Beppe Tedesco? Assolutamente sì perché ricollegandomi anche a quello che dicevo prima anche nel torneo internazionale che abbiamo fatto in Portogallo ad esempio la seconda partita con la Spagna non è stata affrontata con lo stesso spirito anche emotivo e quindi forse lì abbiamo pagato il fatto ecco stiamo giocando con la Spagna nel senso che psicologicamente anche inconsciamente penso perché sarebbe assurdo entrare in campo e pensare di avere delle difficoltà ma inconsciamente paghiamo un pochettino questo timore reverenziale come dicevi te nei confronti di altre nazionali e io in ogni caso penso che come stiamo già dicendo come ha detto anche Beppe come ha detto Ilaria abbiamo la fortuna, la possibilità e anche l'orgoglio di affrontare una squadra che ha più esperienza internazionale di noi però ben venga fa parte del necessario cammino di crescita che dobbiamo affrontare e quindi qualsiasi cosa viene fuori sicuramente può essere un successo e poi da lì punto di partenza per il gradino successivo poi c'è da dire che abbiamo parlato di un tipo di approccio mentale in termini di determinazione ecco di approccio appunto alla partita poi chiaramente c'è il campo la partita bisogna giocarla ci sono le giocatrici c'è la tattica e quant'altro che Slovenia troviamo dall'altro lato e come stiamo lavorando per affrontarla da questo punto di vista? Abbiamo analizzato tutte le partite che la Slovenia ha fatto agli europei invece mentre noi siamo andati in Portogallo loro hanno affrontato due partite amichevoli con la Slovacchia in una formazione però rimaneggiata notizie dell'ultima ora dicono che potrebbero avere delle defezioni rispetto al roster che ha partecipato agli europei naturalmente finché non ci sarà domani il fischio d'inizio alle 18.30 non possiamo sapere in che modo e con che tattica affronteranno la gara però per quello che possiamo stiamo analizzando i video stiamo comunque anche lavorando molto su di noi perché naturalmente non possiamo snaturare la nostra identità noi abbiamo il nostro gioco cerchiamo di lavorare sul nostro gioco difensivo e offensivo naturalmente cercando di adattarlo a quelle che sono magari le avversarie più pericolose della Slovenia però ecco cerchi di preparare tutto quello che puoi e poi naturalmente sarà il campo a decretare il vincitore e farà la differenza sicuramente anche l'approccio di cui abbiamo parlato fino adesso ore 18.30 gara che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports per tutti quanti invece vorranno essere sugli spalti della casa della Pallamano di Chieti i biglietti sono in vendita sia su Viva Ticket sia direttamente al Palasport ma dobbiamo precisare per fortuna che il Palasport è quasi sold out completamente quindi i biglietti sono davvero pochi e quelli ancora disponibili rimaniamo in ambito femminile non parliamo di nazionale ma nella nazionale troviamo in qualche modo il trade union per il nostro argomento visto che l'Italia mercoledì scorso ha affrontato in amichevole la Starmed TMS Teramo una delle squadre che partecipa al campionato di Serie 1 l'unica abruzzese si è giocata nel corso della fine settimana l'ultima gara prima della pausa pasquale e della pausa azzurra naturalmente vediamo in grafica la classifica che abbiamo ereditato dopo l'ultimo turno di campionato una classifica che continuo a vedere eramo in ultima posizione ma con ancora la portata la possibilità di approdare ai play out perché la Libes Espresso Mestrino è a due lunghezze di distanza ricordiamo che l'ultima va direttamente retrocede direttamente in Serie 2 per le quattro squadre appena sopra invece l'altra retrocessione da evitare passa per gli spareggi salvezza e quindi per i play out Elena, con Teramo tu hai vinto lo scudetto ti chiedo un parere, una considerazione intanto su quegli anni e poi su questo momento invece che non è certamente semplice ed è certamente di ricostruzione per la palla a mano Teramana al femminile Sì, per me è stato un piacere rivedere Daniela Palari in veste di allenatrice e ho giocato a Teramo per due stagioni ed era sicuramente un Teramo molto competitivo è stato uno degli scudetti più emozionanti forse inaspettati in quel momento della mia carriera e è bello comunque ritrovare Teramo in Serie A perché comunque non hanno mai smesso di avere una formazione nella Serie A2 e adesso anche in Serie A1 non è facile sicuramente rimanere ad alto livello perché comunque il campionato italiano presenta delle formazioni molto forti con una lunga tradizione però ho visto anche che nella partita amichevole hanno offerto un buon gioco e anzi è stato veramente un piacere il fatto che siano venute perché comunque a noi serviva un banco di prova ulteriore prima della gara contro la Slovenia io auguro al Teramo di poter raggiungere innanzitutto i play-out in questo momento senza passare dall'eliminazione diretta e comunque sicuramente sono le ultime partite e avranno anche loro fatto durante il campionato un certo tipo di percorso e quindi magari adesso potranno cogliere dei frutti più positivi Siccome Elena Barani è a 360 gradi ha vinto tutto, dappertutto anche non soltanto nell'Indoor ma anche nel Beach Handball ti utilizzo anche in questo caso come collegamento per il prossimo argomento visto che Chieti è sempre più la casa della Palamaro l'abbiamo detto, lo ripetiamo tante volte e ospita anche all'interno della struttura Planet Beach il raduno della Nazionale Femminile di Beach che prepara i prossimi campionati europei in grafica vediamo l'elenco delle convocate con la formazione azzurra per l'appunto che è finita in un girone di ferro questo dobbiamo dirlo ai prossimi campionati europei Elena ecco, anche su questo ti chiedo una considerazione perché hai vinto e hai titolo di parlare anche di Beach Handball uno sport che conosci benissimo sì, stavo dicendo anche oggi a delle ragazze che non avrei mai saputo scegliere tra Beach Handball, Palamano, Indoor sono due bellissime decisioni infatti non hai scelto no, ho avuto la fortuna di non scegliere però ecco, sì non sono mai stata in questa struttura e mi ripropongo di andarci perché è molto positivo il fatto di potersi allenare anche fuori stagione diciamo, in una struttura al coperto e da questo punto di vista Chieti è una città multitasking e ormai è a pieno titolo la casa della Palamano e anzi, devo dire che è molto positivo perché ormai quando veniamo ci sentiamo veramente a casa e quindi anche questo secondo me è un'ulteriore zona comfort per tutte le nazionali sia di Palamano che di Beach per quanto riguarda il Beach Handball assolutamente un'altra delle discipline che l'Italia ha sempre giocato da protagonista e quindi spero che succeda anche negli imminenti europei il girone è assolutamente molto difficile con pluricampionesse eccetera però anche l'Italia lo è e quindi deve assolutamente far propria questa tradizione ci sono anche lì delle ragazze di assoluto talento che naturalmente giocano a grandi livelli sia in indoor che sulla spiaggia e quindi in bocca al lupo anche a loro perché è una disciplina che potrà avere ancora più soddisfazioni magari anche olimpiche e quindi sarebbe veramente un grande onore per l'Italia e niente, buon lavoro anche a loro europei a 16 squadre con le prime 7 di questa manifestazione che poi accederanno ai giochi olimpici europei che si giocheranno a Cracovia nel mese di giugno gli europei invece si giocheranno dal 24 al 28 maggio a Nazareth in Portogallo adesso andiamo in pausa nella seconda parte parliamo di Campus Italia e facciamo anche il punto sui campionati abruzzesi a Nazareth in Portogallo che può andare fino in fondo super gol e poi pallonetto rete meravigliosa la carica delle azzurre siamo nella casa della pallamano l'Italia conquista l'accesso alla seconda fase di qualificazione ai campionati mondiali so già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani è normale avere un po' di paura ma non una paura che ti blocca è più adrenalina è come quella che senti prima di una partita e allora c'è solo una cosa da fare scendere in campo e dare il massimo Capus Italia la serie è disponibile sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioquendo è la serie dedicata ai ragazzi della squadra federale che si prepara a giocare il prossimo 15 aprile contro Carpi proprio all'interno del centro tecnico federale di Chieti l'ultima gara del campionato di Serie A Gold sono settimane importanti per la Serie A Gold che sta per approdare alla post-season quindi ai play-off e ai play-out facciamo il punto nel servizio Almeno allo stato attuale coi dati dalla classifica di oggi il novero delle semifinaliste è completo la Raimond Sassari dopo la venticinquesima giornata andata in scena sabato scorso si aggiunge a Brixen Alperia Merano e Sidea Group Fasano nell'elenco delle squadre che in post-season potranno giocare per il titolo la precisazione sullo stato attuale delle cose è doverosa in relazione ai sette punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva al Conversano e sui quali la società pugliese ha già annunciato ricorso bisognerà attendere, non c'è altro da dire ma nel frattempo la situazione cristallizzata alla pausa consegna ai Sardi la certezza di giocare i prossimi play-off verdetto, questo giunto con un turno di anticipo sul termine della regular season grazie al 26-24 che costringe la capolista Bressanone alla seconda sconfitta consecutiva perdere in fila i match contro i Sardi e contro Fasano la settimana prima ha messo gli altoatesini di Ciutura nella condizione di dover confermare il proprio primato nel sentitissimo derby del 15 aprile contro i Diavoli Neri del Merano c'è anche il rischio, seppure remoto, di perderlo quel primo posto Brixen difende il più sette dell'andata ma i giovanissimi di Jürgen Prantner stanno bene e sognano l'impresa che peraltro li metterebbe nella condizione di difendere il secondo posto per noi sarà una finale per giocarci il secondo posto abbiamo due settimane di tempo forse anche un po' troppo adesso però è così e dobbiamo essere pronti fra due settimane e poi noi ce la metteremo tutta e vediamo come finisce la regular season Appena dietro ai meranesi c'è Fasano Reduce dal largo 40-28 contro il Campus Italia che ora dopo la pausa ospiterà Sassari senza la possibilità di fare calcoli i pugliesi di Vitofovio scenderanno in capo per migliorare se possibile il proprio piazzamento e a giudicarsi almeno in semifinale le ha delitto di giocare gara 2 e la eventuale gara 3 travanti al proprio pubblico e adesso ci godiamo questa piccola pausa di qualche giorno per poi andare a Sassari a cercare di vincere la partita per poter appunto provare ad arrivare secondi in classifica Salvezza raggiunta per la Team Network Albatro i siracusani sono bravi a superare l'ostacolo Romagna 23-21 in casa con 9 reti di Gianluca vince il recupero del 12 aprile contro Rubiera divenuto a questo punto ininfluente gli emiliani al pari di Banca Popolare Fondi, Carpi e proprio Romagna dovranno lottare per evitare la retrocessione nei play-out dopo Pasqua nel weekend come detto del 15 aprile conti e ragionamenti riguarderanno solo i possibili abbinamenti della seconda fase di stagione in definitiva chi affronterà chi nelle settimane di primavera che promettono di infiammare gli scenari della palamano italiana Campus Italia che viene da due sconfitte contro le due squadre però tra le più forti del campionato in fila prima i campioni d'Italia del Conversano poi la settimana scorsa la Sidea Group Fasano in precedenza erano arrivati invece due successi sia contro il Secchia Rubiera in trasferta prima vittoria in trasferta dei ragazzi della squadra federale e poi successivamente contro il Romagna nella casa della palamano il prossimo 15 aprile arriva Carpi per l'ultima di regular season intanto ascoltiamo le parole del tecnico del campus Pasquale Maione è stata una partita come quella che ci aspettavamo contro una squadra in piena forma che sta entrando nel periodo migliore per giocare i playoff noi abbiamo avuto i primi 20 minuti del primo tempo veramente tante difficoltà poi ci siamo un po' sbloccati ma ormai la partita era andata però è stato un buon allenamento per noi perché giocare minuti contro gente di questa esperienza ci fa sempre bene adesso abbiamo l'ultima partita che ci aspetta dopo una sosta cerchiamo di chiudere al meglio il campionato è un ciclo di due anni che sono stati meravigliosi ciclo di due anni Elena Barani un progetto ambizioso importante e ambizioso anche da parte di questi ragazzi che hanno scelto di cambiare completamente vita di scegliere appunto la via della pallamano ne parlavamo della prima parte avresti messo la firma per un progetto così immagino ai tuoi 16 o 17 anni assolutamente sì proprio quello che stavo pensando anche prima mentre ne parlavo poi ho avuto la fortuna di essere qui quando erano selezionati e poi praticamente ti hai visti crescere da tutti i punti di vista tecnico, tattico, fisico, umano e quindi penso che per loro sia un'esperienza più che preziosa e che sicuramente segnerà la loro carriera da giocatori sono stati anche bravi a soffrire perché comunque non è facile nel 2021 abbandonare la propria casa proprio perché i tempi sono cambiati come dicevamo prima però ecco sicuramente un progetto ambizioso che secondo me ha avuto i suoi frutti e quindi è stato un successo e loro sicuramente sono i protagonisti principali e si apre il futuro ora un altro capitolo di vita sportiva per loro anche a loro auguro naturalmente tutto il bene perché la Palamano è uno sport bellissimo ecco e loro sono fortunati però sicuramente se lo sono meritato loro sono 17 ragazzi in questo momento non è detto che diventino 17 giocatori della nazionale ma sicuramente sono 17 giocatori abituati a un certo tipo di lavoro un certo tipo di ritmo che vengono immessi nel campionato italiano o italiani che vanno a giocare all'estero in alcuni casi e che soprattutto rappresenteranno e creeranno anzi un principio di emulazione nei 14 anni, 15 anni che intanto per esempio nei giorni scorsi erano in gruppo selezionati una quarantina all'incirca nelle prossime selezioni del campus e questo è un meccanismo virtuoso di cui la Palamano italiana ha assolutamente bisogno assolutamente sì infatti c'erano i nuovi 40 volti giovanili della Palamano e penso proprio che nella loro testa sia un sogno il fatto di far parte del campus cosa che magari non era all'inizio alla prima edizione è come il grande fratello edizione 1, 2 poi ora siamo alla 23esima tutti vogliono stare lì dentro però ecco penso che sia anche un grande investimento dei ragazzi il fatto di poter lavorare in questo modo e anche le famiglie che comunque si privano dei loro figli però sì penso che sia un circolo virtuoso che accrescerà pian piano le proprie potenzialità e anche il proprio bacino di utenza così anche la Palamano entra a pieno titolo in quegli sport che possono diventare la tua vita e che magari possono aprire una strada all'estero verso nuovi orizzonti e quindi è veramente una grande fortuna è un grande progetto e spero che possa durare per tantissimo tempo e ce lo auguriamo naturalmente anche noi vediamo la classifica rapidamente della Serie A Gold con il Campus questa è la classifica intanto della Serie A 2 del campionato di Serie A 2 ma nessun problema perché tanto semplicemente ci anticipa il tema Serie A 2 che dovrà giocare la sua penultima l'ultima giornata anzi il prossimo 15 aprile si è giocata la penultima giornata ecco da questo punto di vista così così per le due formazioni abruzzesi L'Aion Steramo e Presider Pescara che sono ambe due retrocesse nella Serie Inferiore che non avranno più la chance di raggiungere i marchigiani del Monteprandone molto bravi invece da neopromossa hanno centrato la salvezza noi siamo in chiusura prima di salutarvi vi ricordo che i biglietti e possiamo anche vederlo con le immagini della gara del prossimo 8 aprile sono in vendita attraverso il circuito Viva Ticket Italia-Slovenia qualificazione ai campionati mondiali come dicevo nella prima parte i biglietti rimasti sono veramente pochi quindi se è possibile acquistateli già adesso altrimenti provate domani direttamente al Centro Tecnico Federale ex Palasanta Filomena a Chieti accanto allo stadio Angelini io ringrazio Elena Barani per essere stata con noi grazie a te per tutto quello che fai per la Palamano grazie a voi e noi con la Casa della Palamano ci ritroviamo la prossima settimana buona Palamano a tutti alla prossima